Ciao, allora con l'arrivo dell'autunno è il momento di parlare delle tendenze per quanto riguarda i colori che andranno appunto nella stagione più fredda come al solito i colori principi saranno il bordeaux, il borgogno e le declinazioni del viola scuro ho quindi deciso di fare una carrellata di tutti i prodotti che ho di questi colori in modo da farvi un'idea e di darvi qualche spunto su cosa scegliere si tratta prevalentemente di prodotti low cost, quindi iniziamo subito iniziamo parlando degli smalti in questo campo diciamo che molte marche propongono dei bordeaux, dei viola scuri che possono appunto essere utilizzati in questa stagione se si vuole appunto seguire i trend di moda molti sono colori tra di loro due e quindi adesso passiamo a farvi rivedere allora per quanto riguarda il bordeaux, il borgogna fondamentalmente i colori le marche che propongono dei colori che appunto rispertano questo trend sono la Deborah con lo smalto gel smalto effetto gel e questo è il numero 26 questo qui come la Deborah è questo della Dallas della linea Absolute è il numero 36 della linea In Love With leggermente più chiaro della Rimmel è il numero 402 Urban Purple della linea Lycra Lycra Pro più tendenti al rosso sono sempre della Deborah sempre della linea effetto gel il numero 27 e della Rimmel il numero 391 Celebrity Bash per quanto riguarda invece il viola scuro della Deborah c'è il numero 28 e questo è il numero 38 Grazie a tutti per quanto riguarda invece il traimento della comunicazione è il numero 32